La mancata ospitalità all'interno di una tenda sarebbe il futile motivo alla base dell'omicidio di Massimo Bosco, quarantenne siciliano e di origine tedesca, senza tetto, che assieme ad altre persone gravitava ormai da tempo nella zona del Parco del Pionta ad Arezzo. Ed è stato proprio questo lo scenario dell'acceso di verbio tra il quarantenne e i suoi aggressori che in pochi minuti poi gli è costato la vita. È l'1.30 di notte, nei pressi di una palazzina abbandonata, l'ex palestra all'interno del Parco del Pionta, in una tenda canadese dormono un magrebino, una ragazza bionda e la vittima, tutti clochard. Si avvicinano altri due senza tetto, che poi saranno ritenuti responsabili del delitto e arrestati. Si tratta di Maria Marzillano, una 45enne retina già nota alle forze dell'ordine e anche alle cronache retine, e un romeno di 30 anni. I due pretendono asilo per la notte all'interno della tenda, accampando il motivo che quel rifugio era di proprietà di un amico comune, in quel momento assente. Al rifiuto del quarantenne nasce un'accesa discussione tra i tre, subito sfociata in calci, pugni e percosse, all'indirizzo dell'uomo, prima a mani nude e poi con una grossa pietra. La vittima riceve svariati colpi in pieno volto, che poi gli sono fatali. All'arrivo, infatti, dei sanitari del 118, il quarantenne era già morto. Sul posto si porta il capo della squadra mobile di Arezzo, Giovanni Schettino, assieme alla polizia scientifica. Intanto, i due aggressori vengono rintracciati dai carabinieri di Arezzo nei pressi della stazione a retina e arrestati. Adesso si trovano nel carcere retino di San Benedetto, lui e in quello di Solicciano, lei, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del successivo interrogatore di garanzia, che per il momento non è stato ancora effettuato. Non è certo chi sia stato l'esecutore materiale del delitto, ma entrambi sono accusati di omicidio in concorso. Un omicidio consumato, evidentemente, tra le maglie della disperazione e dell'emarginazione da persone per le quali la vita umana ha un valore persino più effimero di un rifugio per la notte.